Il critico d'arte e opinionista tv ha criticato duramente l'imprenditrice digitale e il marito cantante per il lavoro che svolgono. Vittorio Sgarbi senza filtri sui Ferragnez. Il critico d'arte e opinionista tv, coinvolto di recente in una rissa con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show, ha offeso pesantemente Chiara Ferragni e il marito Fedez. Nell'ultima intervista rilasciata al portale ma un Meg Sgarbi è tornato a criticare il lavoro dell'influencer, un p' asterisco asterisco a, a detta del 70enne, che lucra su persone incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe. Un pensiero di qualche anno fa che ora, stando a quanto dichiarato da Vittorio Sgarbi, sarebbe peggiorato nel tempo. E qui è partito l'attacco alla coppia d'oro dello showbiz italiano, adesso penso anche peggio perché secondo me il p' asterisco a, cioè l'influencer p' asterisco a, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni. Ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel c'ha asterisco asterisco o che fa. Cioè già ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. A parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi. Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia Befana che, a fianco di un rinco asterisco 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 nito, propone delle cose per scemi. Al momento Chiara Ferragni e Fedez non hanno ancora replicato alle ultime dichiarazioni di Vittorio Sgarbi. In questi giorni la coppia si sta godendo una vacanza in Sicilia con i figli Leone e Vittoria. Di recente l'influencer e imprenditrice digitale ha spento le 35 candeline. Ha dunque deciso di festeggiare il compleanno a Palermo, insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici.